Il Reguen per un ghiacciaio quest'anno Lega Ambiente propone la carovana dei ghiacciai, una campagna itinerante che attraverserà tutto quanto l'arco alpino e ci aiuterà a capire gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai e inoltre ci ricorderà quanto sono importanti questi ambienti montani di alta quota e quanto è importante tutelarli. Inizierà il 17 agosto col ghiacciaio del Miace in Valle d'Aosta e si concluderà il 4 settembre in Friuli con il ghiacciaio del Montasio. La campagna è promossa con la partnership scientifica del Comitato Graciologico Italiano.